ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video ragazzi come promesso dalla mia pagina ufficiale facebook oggi andiamo a parlare di questo dc dc converter è un booster booster non è altro che un elevatore ragazzi di di tensione questo infatti è capace grazie anche al circuito che vedi di elevarti tensioni che vanno da minimo 10 volt a massimo circa una sessantina di volt e come uscita ti può dare da 12 volt circa a 90 volt in corrente sempre continua ovviamente ragazzi il circuito è carino è fatto bene e le saldature mi piacciono tre fusibili di protezione come hai visto però ragazzi è un prodotto cinese è un prodotto economico perché alla fine è economico per quello che fa dovrebbe costare molto di più sotto di lascio link dove puoi andarlo eventualmente ad acquistare fate attenzione ad una cosa come tutto ciò che è cinese come tutto ciò che è economico e gli ingegneri i ragazzi e vanno al risparmio e si capisce anche da qui perché perché il dissipatore tra parentesi lo vedo piccoletto perché se realmente tu sfrutti tutta la sua reale potenza che 40 ampere ragazzi 40 ampere sono tantissimi con 40 ampere c'è bisogno di tanta dissipazione è vero che c'è anche la ventolina ma va bene il problema ragazzi più grosso e sui condensatori di livellamento i filtri sia di ingresso che di uscita ragazzi se questo convertitore questo booster accetta come abbiamo detto 60 volte in ingresso e loro in ingresso gli hanno messo 63 volt massimo come condensatore in uscita siamo intorno ai 90 hanno messo 100 volt come condensatori questo vuol dire che sono davvero sviluppati progettati ai limiti ecco limiti del funzionale dell'accettabile queste sono le varie connessioni positivo negativo di ingresso positivo o negativo di uscita la corrente entrata all'ingresso ed esce dall'uscita c'è il trimmer numero uno che ti permette di regolare una sorta di protezione sul pacco batteria d'ingresso perché solitamente ragazzi questi quando si utilizzano quando per esempio io ho 12 volt di una batteria dell'auto e voglio far funzionare qualcosa a 24 volt per esempio ecco io tramite quel trimmerino dico che se la batteria in ingresso perciò la mia batteria dell'auto ha una tensione che scende sotto i 11 volt si deve spegnere tutto e lui in automatico fa spegnere il circuito è una sorta di ecco protezione poi c'è il trimmer centrale che quello della corrente che ti appunto può regolare la corrente in uscita da 0 a massimo 40 ampere però ovviamente ragazzi tutto dipende dal carico che vai a mettere se mette un carico che ti vuole per esempio 4 ampere massimi non potrai mai avere 40 ampere uscita se invece è differente metti un grosso resistore un grosso motore che ha un una corrente di 30 ampere e allora li avrai modo di regolare da 0 a 40 30 20 ampere 10 ampere tramite il trimmerino centrale il trimmer terzo che è quello all'uscita è quello che ti permette di regolare il voltaggio di uscita come abbiamo detto da 12 a 90 volt sono trimmer multi giri questo ci permette di avere delle regolazioni ragazzi finissime regola anche bene devo dire il voltaggio e anche l'amperaggio tutto sommato è un bel circuito utile per tantissimi fattori e non fa da step down perciò non ti trasformerà per esempio 48 volt in 12 volt però diciamo il suo funzionamento nativo è quello di innalzatore di tensione andiamo a vedere ora come lo cablo ok vado a connettere l'ingresso positivo negativo al mio alimentatore 1500 watt massimo ok collego anche il testerino positivo negativo e vado a leggere le tensioni in uscita vado a dare alimentazione in ingresso da circa 12 volt ok in uscita in questo momento abbiamo 9,95 è il minimo che realmente può dare in uscita ti ricordo comunque il mio corso battery maker e il corso power wall maker se vuoi imparare studiare la tecnologia video sotto in descrizione tutti i link ok vado a innalzare la tensione di uscita 20 volt 21 23 26 30 34 34 e 6 volt in uscita ragazzi con circa 11 12 volt in ingresso sono arrivato a diciamo innalzare da 34,6 volt che è una bella diciamo un bella un bel accrocchio tecnologico per tantissimi scopi per tantissimi usi ha come efficienza circa il 98 per cento continua a salire 56 57 62 ragazzi non si scherza 70 volt con soli 10 volt di ingresso cioè pensa quante cose potrai fare con un prodotto simile in commercio esistono tantissimi altri modelli questo posso dire che è uno dei più potenti che ho trovato 95 volt eccolo 95 volt voltaggio massimo di uscita con abbiamo detto il la serie di tre condensatori da 100 volt ovviamente sta dentro i 100 volt perciò non dovrebbero avere problemi non dovrebbero scoppiare eccetera eccetera però dico hai visto sono lì con lì loro fanno tutto sul filo del rasoio fanno funzionare tutto siamo sempre nella sicurezza però non come i progettisti per esempio buoni sovra dimensionano i vari componenti perché volendo potevano anche mettere condensatori da 150 volt per stare larghi però ovviamente le dimensioni erano più grandi il costo era differente loro minimizzano tutto fanno funzionare tutto perché funziona come vedi funziona alla perfezione un'altra un altro utilizzo di questo circuito quale potrebbe essere io ho per esempio sempre una batteria di auto e voglio alimentare un motore a 36 volt un motore a 48 volt un motore in corrente continuo da 100 volt o alimentare delle schede elettroniche alimentare dei circuiti alimentare delle lampade qualsiasi cosa ragazzi questo è un elevatore di tensione con anche buona potenza è normale però che ragazzi più è alta la tensione d'ingresso più potrai alzare anche quella di uscita con alta efficienza mi spiego meglio se io devo innalzare 10 volt in 90 volt e il mio innalzatore non avrà tantissima efficienza o meglio non sarà ai massimi della sua possibilità in efficienza è normale perché farà un grande sforzo per poterla diciamo innalzare cosa diversa e se vado a mettere per esempio 50 volt in ingresso ti ricordo anche i fascicoli tecnici cartacei disponibili direttamente su amazon c'è il pacco batteria 6s 7s 10s 3s ti spiegheranno come costruire un pacco batteria e come funziona una batteria litio sotto tutto sempre in descrizione ti ricordo anche di iscriverti al gruppo telegram fox tech best shopping tutti i giorni ragazzi errori di prezzo e offerte ragazzi per questo video è tutto ciao grazie per la visione